Il progetto definitivo arriverà solo nei prossimi mesi, ma intanto dopo un incontro in Campidoglio la S.Roma ha pubblicato un video del rendering del futuro stadio in zona Pietralata. Il sindaco Roberto Qualtieri, insieme all'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia e a quello alla mobilità Eugenio Patanè, ha ricevuto una delegazione del club giallorosso composta da Ryan Fritkin e dall'amministratrice delegata Ilina Suloku. Dopo aver ribadito la volontà comune di andare avanti con il progetto del futuro impianto di Pietralata, Roberto Qualtieri ha rivelato alcuni dettagli. In primis un significativo aumento dell'investimento privato da parte della Roma, ma anche la sostenibilità dell'impianto, con la garanzia del potenziamento della mobilità pubblica e la tutela delle aree verdi. Inoltre lo stadio, dallo stile chiaramente ispirato all'architettura romana classica ma ovviamente all'avanguardia, potrà vantare quella che, per dimensioni, Roberto Qualtieri ha definito la più grande curva sud al mondo. Ora, però, occorre attendere il progetto definitivo e procedere per tappe, anche perché i ricorsi di alcuni residenti hanno bloccato l'accesso per effettuare i vari sondaggi necessari in alcune aree interessate dal progetto.